Produzione e divulgazione di materiale pedopornografico, atti sessuali su minoregni e corruzione di minore. Sono queste le accuse con cui la Polizia Postale ha arrestato due persone su ordine firmato dal GIP del Tribunale di L'Aquila. L'indagine, condotta dalla Polizia Postale d'Abruzzo di Pescara e coordinata dal PM della Procura Distrettuale di L'Aquila, Roberta Davoglio, è partita da una segnalazione del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni attraverso il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Abbiamo fatto delle indagini anche attraverso l'acquisizione di dati telematici e abbiamo identificato una persona. Durante la perquisizione abbiamo rinvenuto molto materiale di natura pedopornografica. Tra questo materiale anche le immagini di una donna che aveva atteggiamenti sessuali nei confronti di un bambino. Per questo motivo abbiamo identificato la donna e abbiamo fatto una perquisizione anche a carico di questa signora. Nel corso delle indagini si è appurato che un utente in diverse occasioni aveva effettuato upload di files contenenti immagini a carattere pedopornografico e che poi è risultato essere un uomo residente a Pescara, coinvolta anche la cugina dello stesso con cui intrattiene un rapporto sentimentale. All'interno dell'abitazione della donna sono stati rinvenuti foto e video ritraenti la stessa mentre compie atti sessuali alla presenza di un bambino. Risultato può essere il figlio di 5 anni per il quale il Tribunale dei minori ha disposto l'allontanamento dalla casa. Per i minori fare attenzione all'utilizzo di internet per evitare eventuali adescamenti. I genitori sappiano di fare molta attenzione all'utilizzo dei social network da parte dei ragazzi quindi al di là delle opportunità che offrono si nascondono molte insidie e quindi bisogna fare molta attenzione. Un altro messaggio da attenzionare è proprio quello che il comportamento di scaricare immagini a contenuto pedo da internet o immettere immagini è comunque facilmente identificabile.